Niente più manifesti cinematografici per le vie di Roma. È triplicata la tassa di affissione e l'Unione Nazionale Distributori FIS ha indetto lo sciopero generale. Possiamo dire che si tratta di uno sciopero bianco, poiché rimarranno bianchi i tabelloni e le mura della città. Squadre di operai sono all'opera per distruggere a colpi di pennello ciò che era stato costruito col pennello. Lo sciopero avrà una durata di tre mesi, poi l'Unione Distributori riesaminerà la situazione. Per tre mesi il sorriso delle dive non ci saluterà più e i duri dello schermo non ci insegneranno più gli atteggiamenti da assumere per rimandare indietro a mani vuote un creditore troppo insistente. L'ordine dei distributori ha scosso gli attacchini. Calma ragazzi, l'aumento della tassa di affissione riguarda i futuri cartelloni, non gli attuali. I contribuenti sono con i distributori. Quando si tratta di tasse tutto il mondo è paese. E certo è un mondo cane.